Se guido io, quei soldi saranno tuoi. Dammi ora il luogo e ti do cinque minuti. Qualunque cosa accada in quei cinque minuti sono con te, ma ti avverto. Qualunque cosa accada un minuto dopo sei da solo. Io guido e basta. Il 9, 10, 11 settembre allaccia le cinture. E non perdere i primi dieci minuti di Drive. In anteprima assoluta, solo nel Cinema The Space. Drive. Drive.